Vincenzo Accardo, questa mattina un sit-in all'esterno dell'ASA Napoli 3 Sud, i marittimi vogliono che sia fatta chiarezza su i corsi First Aid e Medical Care, come è andata? Abbiamo parlato proprio di questa problematica di tantissimi marittimi che scaderanno i corsi First Aid e Medical Care, dove a fine mese c'è un nuovo bando, dove noi pensavamo che in questo bando c'era una limitazione, solo Castellammare invece è aperta a tutti, tutti possono partecipare a questo bando e chiunque agenzia vorrebbe fare questi corsi potrebbero fare. Io spero solo che aumenteranno questi corsi perché fra poco scaderanno tantissimi e tantissimi questi corsi, a questo sono tutti quanto lo Stato Maggiore, diciamo i comandanti, i direttori di bordo, che sono migliaia e migliaia perché cinque anni fa indietro si metteva solo un timbro al Sasana di Napoli, ex Cassa Marittima, oggi no, è passato mani centri, ci sono dei cartelli affermati solo per poche persone, è inaccettabile quello che sta succedendo, questo abbiamo denunciato diciamo all'ASA stamattina. E quindi dall'ASA sono arrivate delle rassicurazioni in merito? All'ASA sono arrivate delle rassicurazioni, dico che ora partiranno altre cinquante persone per fare questo corso, ma cinquante non basteranno perché sono migliaia i marittimi che devono rinnovare questo refresh di corso, ma ringraziamo anche il comune che era presente con noi e dove ha detto con forza, si guardate, questo è un problema primario perché anche l'ASA ha problemi di strutturazione di personale, che non hanno personale, ma questo lo sappiamo. Ma il problema è che il marittimo che nella pandemia così grave è partito con le navi, ha portato il mangiare sulle isole dove ha dato il primo benessere per le isole, allora il marittimo già sta pieno di difficoltà. Per il vaccino abbiamo fatto una guerra, diamo una luce di speranza a questa voce dei lavoratori, non facciamo scadere questi corsi perché dovete sapere, facendo il refresh costa 2,50, li stanno facendo scadere perché li devono pagare 700 euro. Questa è la cosa vergognosa, allora più trasparenza, noi vogliamo trasparenza? Vogliamo trasparenza, trasparenza.